Sto ancora praticamente dormendo perché non ho ancora ovviamente fatto colazione e faccio colazione con questa bellissima tazza che ha anche il suo piattino che mi ha regalato un'amica Come avete visto nel video di sabato sono stati a Dublino Facciamo un recap di questa settimana Questa settimana ho passato i primi giorni praticamente a registrare e montare video per metterli online quando siamo stati a Dublino Dopodiché siamo partiti In realtà all'otto siamo andati a Fiumicino a prendere una mia amica americana che è venuta per imparare l'italiano Perciò siamo andati giù Tra l'altro ci siamo persi Non abbiamo trovato Stava il parcheggio L'atmosfera dell'aeroporto a me piace tantissimo Un po' perché mi piace viaggiare Un po' anche perché c'era questo ragazzo con una rosa E sicuramente aspettava l'amorosa E c'è stato un... A un certo punto sono passati due signori sulla sessantina A un certo punto si è sentito un fischio E tipo il padre si è girato E era ovviamente il figlio che gli aveva fischiato E non lo so È un croce di vite che a me piace tantissimo Ci ha portato poi a rientrare tardi Avevamo... Dovevamo partire da qua Da casa presto Poi la mattina dopo per prendere il volo Quindi abbiamo dormito tipo quattro ore Eravamo abbastanza preoccupati Perché il nostro figlio Mio figlio non ha mai volato Proprio d'ora E quindi eravamo super preoccupati In realtà all'andata da Roma Siamo stati fortunati secondo me Perché siamo capitati In un aereo tra l'altro pieno di bambini C'eravamo quello davanti che strellava Tipo ha strellato per tutto il viaggio Mentre mio figlio è stato Tranquillissimo Ha reagito benissimo Io ne ho potuto fregare di meno Questo vantaggio per l'aereo Doblino tra l'altro è molto molto carina È molto molto carina È una città secondo me molto visitabile In tipo tre giorni Tipo in un weekend lungo Si visita tranquillamente Noi siamo arrivati il nove Noi abbiamo preso un appartamento Quindi siamo andati all'appartamento Dopodiché siamo andati a fare spesa Facendo tutto a piedi Noi stavamo al centro Però il supermercato tipo che era la cosa Una delle cose più lontane da dove stavamo noi Stavamo tipo un quarto d'ora a piedi E quindi abbiamo praticamente la prima giornata Se n'è andata così Però poi il nove Abbiamo girato Dublino E abbiamo girato per talmente tanto tempo Che praticamente Io sono arrivata la sera che ero stanchissima Mi faceva manare la testa Avevo i brividi di freddo Volevo solo dormire Volevo solo dormire Tipo stavo bene solo sdragliata Mi faceva male i piedi Mi faceva male la schiena Però abbiamo effettivamente visitato tutto quello che volevamo visitare Dopodiché abbiamo rifatto una passeggiata al centro E poi siamo andati a prendere i ricordini da portare E a mangiare E poi abbiamo ripreso l'autobus E siamo tornati in aeroporto E siamo tornati a casa E le cose belle sono state due Uno che C'è il Dublin Express Che è il pullman Praticamente che fa diretto Dall'aeroporto a Dublino Centro E da Dublino Centro all'aeroporto Costa pochissimo Io l'avevo preso online Costa pochissimo È comodissimo E tra l'altro sul loro sito Puoi anche vedere dove sta E quanto manca Prima che arrivi alla tua fermata E quindi è stato super facile Dublino è una città che mi piace Sicuramente ci torneremo E ci è piaciuta È piaciuta sia a me che a mio marito E noi abbiamo gusti molto diversi Per quanto riguarda le città Quindi sicuramente è una città dove torneremo E poi è stato fichissimo Perché abbiamo preso Avevamo l'aereo alle 4.40 Ora Irlandese Loro sono un'ora indietro Quindi qui erano alle 5.40 E quindi abbiamo visto La bellezza di essere Su un aereo In cui a un certo punto Praticamente c'era Se ritrovo la foto Me la inserisco Però C'era praticamente Sotto c'era una coltre di nuvole nere Nere perché ovviamente Era buio Sulla terra Però Noi stavamo ancora assistendo Tipo il sole stava ancora in realtà Ancora tramontando E quindi Dove stavamo noi C'era la luce È stato fichissimo E poi vabbè Siamo tornati a casa È stato molto ok Ci sono venuti a prendere Abbiamo mangiato un po' così al volo Due panini E sono tornati a casa Anche perché eravamo Cotti Stragotti Super cotti Però Sono stata molto contenta Mi è piaciuto È stata una settimana Bella Bella se non fosse Che è finita Con la notifica Della banca Che Mi è stata Glonata la carta Vale dirti E tra l'altro Non so nemmeno come Perché io non la uso La carta Cioè Sarà tipo un mese Che non uso la carta Proprio perché Tendo a pagare tutto In contanti Proprio per paura Che succedano Una cosa del genere Però Quindi adesso Stiamo insomma Facendo tutte le procedure Per Prima di tutto È stata bloccata E poi stiamo facendo Tutte le procedure Appunto Per 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 denunciare Questa cosa Insomma Vedremo come andrà a finire Vedremo Detto questo La colazione È finita E noi ci vediamo domani In un altro video Ciao